Due intense cerimonie a quelle che si sono svolte il 10 febbraio alla questora di Caltanissetta nella sala Emanuele Aloi dove due targhe commemorative sono state consegnate dal questore Emanuele Ricifari. La prima alla presidente dell'associazione Bnei Efraim, amici di Israele Nazarena Condemi per ricordare Giovanni Palatucci nel giorno dell'anniversario della morte. Proprio Palatucci fu questore leggente di fiume, vittima dell'olocausto, salvò la vita a numerosi ebrei italiani e stranieri La targa è stata donata all'associazione come testimonianza tangibile di fraterna vicinanza al popolo ebraico nella memoria condivisa e indelebile del sacrificio del valoroso dirigente di polizia giudicato nel 1990 giusto tra le nazioni e insignito dallo Stato italiano nel 1995 della medaglia d'oro al merito civile. Poco dopo, essendo il giorno del ricordo, data in cui si commemorano le vittime dei massacri delle foibe è stato ricordato Luigi Bruno, guardia scelta di pubblica sicurezza con la consegna di una targa alla figlia Anna Maria un racconto amaro il suo, fatto di ricordi, tante le lacrime durante la narrazione di alcuni dei momenti della ricerca del padre e della tragica scomparsa, tutti contenuti nel libro autobiografico intitolato Fiume pubblicato nel 2019. e per la ragazza di pubblicato nel 2019 e per la ragazza di pubblicato nel 2019.